non è tutto grazie sempre io e oggi siamo tornati su the high gear lower ma questa volta con un twist ovvero che a ogni partita persa berrò un bicchiere di aceto e non è buono secondo me questa cosa ma lo devo fare per rendere ancora più viva questa partita sennò sarà il solito video palloso bisogna mettere un po di twist farei la classic mod almeno andiamo su il soft allora pulp fiction e blade runner questa è bella iniziamo già con una super sfida direi blade runner mamma mia iniziamo col botto t mobile non lo so nemmeno cos'è ma già 6 milioni e iniziamo subito primo minuto di video prima bevuta non esageriamo da che esagerato bruciano gli occhi la prossima volta metterò di meno mamma mia snapchat 2001 odisse nello spazio snapchat di più secondo me duck duck go di più chi non ha mai usato duck duck go la bibbia di meno beh di poco dexter ancora una serie io direi su un milione quindi di meno ho azzeccato di america life di meno non so nemmeno cos'è strip club di più o strip club vince sempre questa di più invece no quanto è bello non conoscere il mondo di internet alla perfezione e si va di un altro sciottino poco adesso sì che è stato meno doloroso di prima ma andiamo avanti table tennis o jaco non so chi sia questo sembra di twilight ma io direi di meno non so chi chi è borussia dortmund di più e jeremy klaxon di meno mamma mia kfc ma perché ci hanno messo un pollo vivo che chi sceglie le immagini per questo sito è un genio comunque di più il cap 5 milioni ammazza quindi di meno c'è nessuno batte il cap fc i risultati del football di più beh onestamente taiwan molto di più di poco ma ci siamo l'algebra è questa è bella secondo me di meno dai dai jordan di più lion rich di meno di jordan ok questo non so cos'è essendo un dvd potrei dire di più proviamo di più hai visto che non era di più mai fidarsi di me però ho fatto 10 ed è già un passo avanti altro sciottino non esageriamo che dobbiamo durare dopo ci avrò lo stomaco a pezzi madonna è brutto il piccolo principe all blacks all blacks scupito di più dai america storie x di meno ok hotel luanda di più era di meno poi facciamo che questo sciottino lo prendo perché c'ho lo stomaco che mi brucia facciamo riposare un po lo stomaco augmented reality o fh fh già che si parla di uno sport vota la palace che cacchio è di meno non sono in cura nessuno saico di più dai stiamo parlando di un classico la pensione chi potrebbe cercare la pensione di meno non credo che gente cerca pensione su google questa di più dai già che si parla di iphone e chi sei tu di meno a chi ti conosce wow col cavallo mi piace e devo farmi un altro sciottino cosa che questo video finisce subito mi sto sentendo male mi sa che dopo vado a sboccare continuiamo stone cold steven austin dottor dre dottor dre a vita daft punk di più non so cos'è ma siccome in azienda dire di più cioè quindi questo di meno di più come selena gomez chi dai schumacher di meno non supera selena gomez magister united di più ammazza del magister quindi di meno tetris di meno rispetto ai 3 milioni plutone direi di più onestamente ok siamo a 10 franz becknabur siccome becknabur di più e invece no nemmeno joker riuscito a rendere famoso becknabur che ha capito la citazione lascia un like ora fallo per me andiamo con la prossima partita dai voglio superare quel numero 10 adesso il mio obiettivo è quello eminem wicklakes di meno old boy di meno non so nemmeno cos'è epilessia di più di poco ma è di più ultima cena di più è una chi se ne frega dell'ultima cena allora ce la farò a superare quel numero 10 ramadan o the big lebowski è di più ma perché faccio schifo paragliding o joe frazier non so chi è di meno pink floyd di più ed she ran di più è di meno sono pari tesco beh 6 milioni dire di meno orco ce la farò a superare quel numero 10 eh the wire o legan aix che non so cos'è di meno vabbè di più questa è una serie molto di più starbucks di meno antidepressivi tatuaggi di più nessuno si incula i tatuaggi allora di più di meno e di meno di più tumblr la donna tumblr 13 milioni quindi questo è di meno gli emirati arabi trisom è di meno pari e non so chi sia di meno e bu di più l'eczema a sto punto di più richiurì di meno allora non facciamo scherzi adesso l'arpa di più porca madonna che mi fermo sempre a 10 sempre a 10 l'ultima ho lavato la spacca questa questa è una sfida che ho deciso di fare giurassic world di meno di meno e kubrick di meno di più vorrei dire di più che cacchio è health fargo direi di più 16 milioni bmx di meno dyson di più signor dyson e che cacchio mi fa the prestige di più la turchia di più cioè la turchia coffee shop di meno the sims di più coca cola di più ciao